Sì, lo so che i video più gettonati di questo canale sono quelli in cui io parlo della musica prog e questo ovviamente mi rende molto felice. Sono anche molto gettonati i video dove si può intuire che sotto sotto c'è una piccola grande polemica. Beh, in qualche modo anche nel video di lunedì prossimo è sottesa una qualche piccola ma importante polemica, ma soprattutto innanzitutto il video di lunedì è il racconto di una grande storia in musica, è il racconto della storia di un giovane straordinario talento musicale italiano e mi permetto, come rare volte accade, di fare questo video anteprima per invitarvi assolutamente a non perdere il video di lunedì sera perché credo che alla fine ne resterete pienamente soddisfatti e per un attimo avrete una serata migliore, voi che amate la musica, la musica quella vera. Quindi vi invito caldamente a vedere il video che andrà online in premier lunedì 20 novembre alle ore 21 e poi come sempre nel web resterà lì speriamo per sempre. Quindi mi raccomando vi aspetto numerosi a condividere con me questa storia straordinaria in musica. Grazie. 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 Grazie.